oggi vi racconto le bellissime qualità del varatà il varatà è un fiore molto importante nel repertorio della floriterapia australiana ha un colore rosso fuoco molto bello e anche molto forte molto potente quindi questo già ci lascia intuire il potere veramente energetico di questo fiore ed è un fiore che in realtà penso che sia veramente quello che incarna più di tutti il tema proprio dell'esistenza della vita cioè questo alternarsi tra gioia e dolore questo continuo superamento di quelli che sono poi le prove e i momenti difficili della vita varatà è il fiore che nel libro i fiori del bene chiamo il fiore del coraggio ci dà un grande coraggio ci dona veramente una capacità di agire e reagire grazie a tutti grazie a tutti